Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo ora la mia top 11 per la settima giornata di campionato. La settima giornata avviene dopo un turno effrosettimanale, quindi un turno veramente molto delicato e dobbiamo ponderare molto bene i nostri consigli. All'interno del video di oggi andiamo a fare una top 11 schierata in un 3-4-3 di consigliati, presi tra certezze e scommesse, evitando i nomi banali, i nomi come i top di reparto, cercando di dare dei consigli molto molto validi e pratici per voi fantalenatori. Prima vi invito come sempre a supportare il canale con un bel like, che ricordo anche allontanare via la sfortuna dal tuo fantacalcio, quindi comunque il like lo andrei a lasciare anche perché ci lascia un qualcosa di positivo in ottica fantacalcio. Se non sei iscritto al canale, iscriviti, è gratis, ti permette di restare aggiornato su tutti i nuovi video che usciranno su questo canale a tema fantacalcio. Parlo solo di fantacalcio per cui se ti interessa il gioco, l'argomento, i consigli, cosa da fare, iscriversi. Ma l'iscrizione è anche importante perché ti permette di commentare con i tuoi dubbi di formazione nelle mie live, dove andrò a rispondere a tutti i tuoi dubbi di formazione. Detto questo ragazzi, entriamo con la grafica, partiamo, ricordo che nella top 11 andiamo a fare una formazione di consigliati, ischierati in un 3-4-3, andiamo con ordine, si parte dalla porta dove ci metto il buon Skorupski. Uno Skorupski che sta facendo molto molto bene, un giocatore che sta bene e va confermato a mio modo di vedere le cose. Non mi aspetto il cliché al 100%, anche perché il Bologna viene da 3-0 a 0 di fila. Un risultato anomalo, per certi versi, assurdo, affronta però l'Empoli, che in questo momento è il peggior attacco del nostro campionato. Quindi un motivo in più per schierare Skorupski, giocatore che sta bene, con una difesa davanti a lui, che sta bene, che affronta un attacco che non è il top del top. Magari il gol subito ci può scappare, perché viene da 3 reti inviolate di fila. Però mi aspetto comunque un'ottima prestazione da parte di sua nel complesso. Andiamo a vedere la linea di difensori, una difesa a 3. Il primo nome è Carlos Augusto, che può avere chance dal primo minuto nell'Inter, facendo rifiatar Di Marco. Un giocatore interessante, un giocatore che sulla fascia sa spingere. Affronta la Salernitana, che in questo momento è anche un po' in difficoltà in termini di risultati, quindi può essere una mossa sensata e soprattutto una mossa possibilmente da bonus. Come secondo difensore ci mette invece una certezza, una certezza da modificatore, un giocatore certezza per il voto. Il 6-6,5 dovrebbe garantirlo ancora. Anche contro il Verona parlo di Peter Schurz, difensore centrale del Toro, molto solido, che affronta quindi il Verona, come spoilerato nella presentazione di questo giocatore, un Verona che non sta producendo tantissimo a livello offensivo, quindi dovrebbe cavarsela anche in questa giornata il buon scurs. Come ultimo nome ci piazzo Marco Davide Faroni, stessa partita di Scurz, giocatore interessante che sta tornando su alti livelli, giocatore che si inserisce tanto, è comunque un fuori ruolo al fantacalcio, perché gioca da esterno di centrocampo, ma soprattutto si inserisce veramente tanto in aria. Da un lato all'altro il Verona riesce a portare la palla principalmente, dal lato sinistro arrivano in cross le conclusioni dalla destra, dal lato di Faraoni, e Faraoni quindi potrebbe arrivare a concludere qualche azione. Andiamo sulla linea dei centrocampisti, dove faccio un centrocampo molto pesante per questo settimo turno di campionato. Partiamo con l'off-to-cheek del Milan, un giocatore importante, un giocatore che ha segnato alla scorsa, quindi sarebbe quasi un'utopia pensare che faccia il back-to-back, il bis, due gol consecutivi, due gol in due partite. Affronta la Lazio e la partita, la conosciamo bene, non è una partita facile per la squadra rossonera, però questo giocatore può essere un giocatore chiave per le sorti del match a favore della squadra rossonera. La squadra rossonera che negli ultimi anni ha sofferto contro la Lazio principalmente la fisicità di Milinkovic-Savic. Quest'anno Milinkovic non c'è, ha tanta fisicità in mezzo, grazie al centrocampista inglese che può essere quindi la chiave di risoluzione di questo match. secondo nome, altro nome, che viene da Milano ed è Nicolo Barella, però quindi sponda Inter, in questo caso un Inter che ha perso contro il Sassuolo, deve rifarsi, si è infortunato Frattesi, giocheranno quindi ancora una volta Barella, Mkhitaryan, Barella per me ha una certezza che ancora quest'anno non ha portato bonus, deve arrivare anche per lui prima o poi il bonus e sono convinto possa arrivare proprio in questa giornata di campionato. Terzo nome Ferguson del Bologna, un Bologna che non segna da tre giornate, un Bologna che comunque riesce a produrre. Ferguson è nel vivo del gioco, uno dei principali finalizzatori anche di questa squadra, perché è uno dei giocatori che arriva più volte al tiro. Per il momento, in queste prime sei giornate, è arrivato in media per gara al tiro, due volte a partita, mentre 0,5 volte, quindi mezzo tiro di media, in porta a partita. Numero comunque interessanti per un centrocampista e vi dico che per me è un consigliato di questa giornata contro l'Empoli. L'ultimo 9 del centrocampo ha una partita tosta ed è decetelare, l'Atalanta infatti affronta la Juventus. Partita veramente molto molto dura, però lui è una sorpresa di questo inizio di campionato, dovrebbe giocare ancora una volta da titolare nella squadra di Gasperini e io onestamente, ragazzi, una chance gliela darei, perché un giocatore che per caratteristiche fisiche e tecniche può far bene anche contro la Juventus, quindi non mi priverei, se fosse possibile, di Charles de Ketelar per questo turno. Andiamo adesso all'attacco, dove puntiamo su un attacco delicato e particolare. Il primo nome è Walid Kedira. La partita del Frosinone è tostissima, perché affronta la Roma, ma è una Roma che è in difficoltà in termini di risultato, e in difficoltà a livello difensivo, quindi Kedira può essere comunque una mossa sensata, una mossa vincente, come terzo slot del nostro attacco in questa giornata. Considerate anche che il Frosinone sta facendo un ottimo percorso, una squadra che gioca bene, si trova all'ottava posizione in classifica ed è allenata anche da un ex che sicuramente non vorrà steccare proprio questa gara, quindi Kedira, da rigorista anche, potrebbe avere la chance per i più tre in questo turno. Come secondo nome, come principale attaccante di questa top 11 ci metto Olivier Giroud. E la motivazione principale probabilmente anche è riposato. È riposato, non ha giocato nel turno in fr settimanale, pienamente quindi carico, a differenza magari di compagni di reparto e di avversari della Lazio. La partita è tosta, sì, ma Giroud non ha paura delle partite difficili. Rigorista anche del Milan, giocatore che io schiero senza troppi problemi. Terzo nome, Dani Mota, un Dani Mota al quale è stata negata la gioia del gol nello scorso turno di campionato con un gol annullato contro il Bologna. In questo momento rappresenta forse il miglior nome a livello offensivo del Monza. Per il momento c'è l'ombra del Papu Gomez che sta arrivando. deve scacciare via il prima possibile quest'ombra facendo bene, trovando il primo gol in questo campionato. Fino ad ora sempre giocato, vorrà continuare sicuramente a giocare proprio come lo scorso anno dove non era la prima scelta però alla fine ha giocato tantissimo ed è stato anche il miglior marcatore del Monza in campionato. Può continuare su questa striscia quest'anno ma deve darsi una svegliata, deve dare una risposta sul campo e la può dare perché un giocatore che nelle ultime giornate ha risposto presente. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Ricordo a tutti di lasciare un like a questo video. Se non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo con un nuovo contenuto a tema fantacalcio. Ciao a tutti! Grazie a tutti!